E allora, buonasera a tutti, buonasera per la nuova. Vi fate sentire un attimo se ci siete. Perfetto, poi miglioreremo. Here we go. Perfetto, poi miglioreremo. Bene, grazie mille, grazie, grazie. Un altro pezzo, prima di accogliere la strepitosa, meravigliosa Bianca Azei, Katia Croce ha la voce per voi e con questo pezzo vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie mille delle amore, grazie al Comitato Feste, grazie. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.